Il Centro Servizi Realtà Strategica per la formazione al servizio delle imprese, ecco che numeri possiamo dare? A fine di quest'anno raggiungeremo grosso modo 2.000 partecipanti alle nostre iniziative. 2.000 partecipanti però che partecipano a numerosissimi incontri nel corso delle settimane a piccoli gruppi, 10-15 persone per trasformare la formazione in un vero momento di consulenza tra gli esperti che provengono da tutta Italia e che arrivano qua a Savona e le nostre aziende. È una realtà che da un po' di anni offre alle imprese savonesi e non solo, anche agli antipubblici, ad altri soggetti come le categorie professionali, delle opportunità formative di alta qualità che sono raggiungibili solo muovendosi e andando nei luoghi dove queste attività vengono erogate sistematicamente. E allora il motivo per cui si fa è perché l'innovazione continua richiede da parte di tutti i soggetti che sono impegnati quotidianamente sul lavoro sia di servizio alle imprese ma anche proprio di attività produttive richiede moltissima preparazione. Tutto questo è gradito dalle imprese, i corsi vengono fatti a pagamento, quindi sono corsi che rispettano le regole di mercato e vanno a intervenire sulle aree più significative dell'attività di impresa, coinvolgendo spesso anche le amministrazioni pubbliche e gli studi professionali, visto che si parlano di norme e di complessità, pensiamo alla sicurezza piuttosto che ad altri campi che richiedono una condivisione sia della normativa sia della migliore e più efficace modalità per farvi fronte.